Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono tutti dentro la borsa, c'è un sacchetto per pigliarmi. Pigliano, pigliano. Sono rimasti solo bianchi o arancioni. I gialli sono già andati. Dove? Ma non è il capo di... Ah sì, è vero, anche quello è vero. Però io, siccome non lavoro volontariamente, ho preso sei mesi sabbatici. E' fatto bene. Grande Ivan, come va? Bene, bene. Oh rega, qua mi hanno chiesto durante la finale di fare dei commenti seri. Io ho detto, vabbè, se volete fare dei commenti seri, venite voi, perché io non sono capace. Infatti, sembra che per la finale ci sia già prenotati Baratta e Bergi. Oh, ma ho visto di portachiavi quando ho spinto a me il video solo qua. Ce n'è rimasto uno, e voi? Assolutamente sì. Dai, pigliano, va, dagliene uno, matto. È matto, è matto. È matto. È matto, è matto, è matto, è matto. Grazie, lì. Sì, ce l'ho, è dentro la telecamera. Buuuh, piccicata. È buono. Ma quella è una giocaccia famosa di calcetto. Giulio, pressalo, Giulio, pressalo. Bravo, bravo, Giulio, bravo. Bravo, bravo, Giulio, bravo. Bravo, bravo, Giulio, bravo. Ja, guardate. Dai, ragazzi. Mon para. lithium. conversations. B kendi? Ti fa ancora? Ti fa ancora? Ti fa ancora? Ti fa ancora? Li hai più? Così? ah quest'anno mezzo che sono libero si ma normale tutti mi dicono che dovrei fare facebook però io non ho sbattimento no poi sono un po' contro si stavo zoomando però dai cotta dai cotta sono un po' contro si dentro sempre la borsa molto spazio vai raga adesso vai giulio bravo daro destra destra anche questo è venuto eh dicevo così per dire bravo 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 Cosa dobbiamo fare? Diego, Diego! Cosa dobbiamo fare? 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 La rete per esempio davanti non ci deve essere Anche il ceccio a fianco non ci deve essere La cancelliamo Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Non sparare Non sparare Oh L'intercetto del Gino Perché con testa si era posizionato Dal punto giusto Giusto? Nooo Bravo il tercetto Bravo il tercetto Salvataggio Buono Nooo 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 Buono Telenberto Buono Partito Partito adesso Vai insisti 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 Vai Gino Vai Gino 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 Viene caricato Lo comprimo Chiamato fallo sul lancio Tendo e mezzo Nooo Tendo e mezzo Tendo e mezzo Tendo e mezzo Ed ecco a voi uno dei motivi per i quali partecipare da spettatori a queste manifestazioni sportive. Il pubblico è sempre partecipato. Bravo il pubblico. Diestro, dietro, bravo Giulio. Stai, stai Giulio, vai. Via d'acqua. Giulio! Giulio! È Giulio! Bravo! Gli erano messi due, io avevo detto che erano prezziati. Stai, 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 stai. Ecco il terzo. aiuto il suo protettore il volo sulle tre quarti il volo sulle tre quarti appoggiare ci vediamo foto foto ah non mi ricordo che avrei detto non vengo più a tentare è una promessa ti conosciai? pauta vediamo a favore di Facebook un po' beh, però se voglio lo gioco sull'anima chiudi Pietro è calmo Cezz sembrava poter cliccarsi da qui guarda 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 qui a venita a recupero vecchio io sono qua da ieri sera vecchio Sì, mi vetti che se è già un'altra parte... No, Henry! Io sono stato cercato di agitare e non ho visto nessuno. Siamo detecchiati, ci sta allo spardo. Va bene, arrivo. Quindi andò a un'altra parte, Beth? Eh? Sono già al campo? Sì, ho detto la metà spazio. I scaldamenti sono ancora in tempo. Ah, ok. Un'altra parte, un'altra parte. Ci sta. Valtaglio. Vispi in ottimo posizione. Gugno. Tecnica accolta, guarda su piano piano. 3 kg sicuro. 20.000 passaggi. Oh, è il risultato finale. Un troppo avuto. Guarda. Intр connecti. Abre. Intrins. Trebow, trebow, trebow. ascribni. Buono, 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 buono. Dai, dai. Aiutati dalla positiva. Non ce lo scelgo. Ah, è un blocco. Guarda qui! Time out, chiamata la cota. Ottima scelta. Eh? Dedecco il disco in mano. Cerca l'ostarico. Hammer. Buono. Ma c'è stato, eh? Buono. Uuuuh, disco perso. Disco perso. Giro con il disco. A favore di venti. Cerca l'ostarico. Buono. Radito l'ostarico. Un fusilo interno al disco. Buono, cilindra Berluschi. Infatti che vuol dire vicino. Vuol riuscire dalla linea. Ventin. Chiuso sulla linea. Vuole la pressione prescesa. Oh, quello scarto. Panda con il disco. Panda che cerca il doco. Amber, Trawl m ride sul Gino. Nooo! No. Con quella struttura montale che era molto confidente. Ok. Vai tutto uomo. Anche tipo. Anche tipo. Anche tipo. Anche tipo. Lama contro sole. Facile. Chiari, spara l'unico. Tovi, scarica. Dai, tardi. Faccio il giro. Io, nero, giro libero... Lo volevo darlo. Gino libero. Giino libero! Gino libero! Guarda... Gino libero! Te l'ho lasciata giro. Guarda gli altri, guarda gli altri per cio! Guarda i tuoi! Paura dell'uomo che arrivava sull'estero, braccio corto, dai mai, ecco, stai calmo, adesso bello amici, bravo, gran visione di gioco, gran visione di gioco, io lo potrei organizzare a Manto, è stato due settimane fa, quando è venuto giù di nuovo, lo sono trovato, il giorno dopo che eravate qui da Calombatone, il giorno dopo è venuto giù di nuovo, c'era la casa Dragon, bravo, si facciamo una birretta, poi schiavo a Parcetti, solo che il tempo è uscito, eravamo a Masha, ma di fatto indietro. Troppo casino, tornozino, troppo casino, troppi vicini per il discorso, se non giocano, Governo, troppo casino, bravo sì, bravo sì, bravo, l'evenco�도o, è legalmente, è leggero, è lungo? Tobi senza berletta, magari si rinfresca un po'. Stai chiaro, stai chiaro. Eh, eh, da pure non ti capisco. Sì, sì, sali, sali, sali. Calmo, allarga il gioco. Buono, buono, stec. Buono. Non era per lui, stai. Cacchi, apri, flusso dall'altra parte, flusso, flusso. Niente. Ti vai che ho pullato. Ho uscito dal metà campo? No, no, tre quarti, è arrivata l'altra parte. No, sta guardando l'altra. Ah, scusa. Con comprensione. Stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai calmo. No, più calmo di così. Calma riminese. Calma riminese, bello. Risultato? C'abbiamo qualcuno che ci può dare... Comunque ha vinto il quota. Almeno 14 a 6, almeno. Meno, meno. Calo assist. Calo assist? 15 forse. Inutile. No.